buongiorno a tutti grazie per essere qui sono francesca di concetto e sono responsabile per l'italia del progetto micmac finanziato dal fondo europeo per l'informazione e media e mif sull'utilizzo della micro formazione per formare insegnanti ed educatori nell'alfabetizzazione all'informazione e media oggi potremo conoscere in che modo il gaming e il debate possono aiutare gli studenti a sviluppare competenze di pensiero critico e di fact checking abbiamo una chat box nella quale potete scrivere le vostre esperienze e le vostre domande vi ricordo che il webinar è registrato e che la registrazione sarà disponibile entro una settimana da oggi nel nostro canale youtube inoltre il link alla registrazione vi sarà inviato anche per posta elettronica vi ricordo di tenere chiusi i microfoni per evitare i rumori di sottofondo durante il webinar e passo subito a presentare la nostra relatrice che parlerà del modo in cui gaming e debate possono aiutare gli studenti a sviluppare competenze di fact checking e pensiero critico la professoressa leonarda raffoni è docente presso l'istituto tecnico tecnologico buonarroti di trento appassionata di didattica da sempre impegnata a utilizzare le metodologie orientate all'apprendimento attivo collaborativo e consapevole all'itt buonarroti la professoressa raffoni è figura strumentale per l'innovazione didattica e la ricerca referente di numerosi progetti nazionali e internazionali esperimentatrice metodologica curricolare e strumentale passo ora con piacere la parola alla professoressa raffoni per la sua presentazione grazie grazie mille francesca benvenuti a tutti allora io inizierai subito condividendo il mio schermo così iniziamo la presentazione che vi ho preparato ecco durerà circa una quarantina 45 minuti per cui insomma cercherò di essere anche insomma relativamente sintetica quindi benvenuti al webinar di oggi del 29 febbraio data direi già particolare ecco quello che andrò a presentare oggi è questa unità didattica dal titolo i or not i poi capiremo meglio che appunto vuole essere uno strumento operativo ecco proprio un'unità di apprendimento pronta all'uso ma che possa essere facilmente adattata anche ai contesti insomma delle vostre discipline in maniera direi veramente immediata gli obiettivi sono quelli che già diceva francesca li vedete scritti lì però ce ne sono tanti altri che poi andremo a scoprire durante la presentazione ecco allora un po di contesto come diceva francesca a me succede di essere spesso referente di progetti fra i vari questo brain appunto è il titolo è una rete nazionale si è creata nel 2021 il progetto è andato avanti per un paio di anni è un progetto finanziato dal piano nazionale scuola digitale l'obiettivo del progetto era quello di introdurre l'intelligenza artificiale nella didattica ecco questo poteva avvenire in vari modi e quello che abbiamo scelto noi in questa unità didattica era quello di far approcciare questo tema agli studenti piccoli del primo biennio quindi 14 15 anni e tramite appunto un così un approccio che consentisse loro di acquisire anche un metodo che più facilmente potesse ecco essere utilizzato poi anche per altre situazioni non solo l'intelligenza artificiale e comunque vedete anche l'indirizzo della della rete se volete andare a curiosare ecco potete trovare anche tutte le altre a di apprendimento ecco allora andando avanti era un pochettino l'obiettivo di questo di questo di questo nostro unità di apprendimento era sostanzialmente di quello di introdurre gli studenti a un tema comunque controverso sappiamo che dell'intelligenza artificiale se ne sente parlare in tantissimi contesti nel bene nel male e quello che era il nostro obiettivo era andare ai ragazzi anche un modo appunto per approcciare un tema controverso nell'esempio specifico ripeto nell'intelligenza artificiale ma come capite potrebbe essere qualunque altro tema sul quale vogliamo far riflettere ai nostri studenti evitando la disinformazione come vedete scritto qui adoperando il pensiero critico confrontandosi con la media information literacy facendo del fact checking ma anche relazionandosi confrontandosi fra di loro dibattendo argomentando e quindi magari raggiungendo anche un consenso almeno all'interno di un piccolo gruppo l'obiettivo quindi finale era sì quello di saperne di più capire di più o farsi una idea migliore insomma più precisa rispetto all'intelligenza artificiale però in generale l'obiettivo era proprio quello di dare agli studenti uno strumento che consentisse loro una maggiore consapevolezza e superamento di quegli giudizi binari che tipicamente sono propri della società dell'informazione dove sembra che tutto sia o bianco o nero in realtà poi ci sono anche molte sfumature ecco vediamo un attimino quali erano le varie le varie attività che appunto rientrano in questa unità di apprendimento la prima la preparazione dei materiali che ho messo qui perché anche se insomma tipicamente la preparazione dei materiali è pre attività evidentemente è compito del docente prepararli però in questo caso poi vedrete meglio com'è anche è stata diciamo coinvolta anche un'altra classe che a sua volta ha fatto quindi un percorso per approcciare questo tema e come risultato del suo percorso in quel caso era stato proprio in percorso di educazione civica e cittadinanza ha preparato dei materiali del gioco e che poi sono stati usati da un'altra classe classi del biennio di prima e di seconda mentre i materiali sono stati preparati da una classe quinta e poi c'è la fase di gaming vera e propria che è poi il cuore di questa unità di apprendimento e vedremo come si svolge a questa fase di gaming che insomma può essere adattata come dicevo a qualunque altro tema e che consente proprio in generale questa possibilità di approcciare un tema con una consapevolezza maggiore noi abbiamo aggiunto anche poi una fase di comunicazione una di di debate che ci hanno dato anche delle sorprese come come vedremo prima come vedremo dopo per quanto riguarda la preparazione dei materiali la prima parte è stata fatta dai docenti i quali hanno definito queste le vedete qui delle policy che poi vedrete come si useranno nel gioco dove sono state così ideate ma in qualche modo anche raccolte da quello che è il dibattito che si sviluppa intorno all'intelligenza artificiale posizioni anche fra loro un po' contrapposte ad esempio vedete la prima policy dice lo sviluppo dell'intelligenza artificiale provocherà il dilagare di robot e macchine autonome che si sostituiranno all'uomo nel lavoro nelle relazioni questa è una cosa che sentiamo dire tanto allo stesso modo però c'è la policy 2 che ci dice che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale invece consentirà ai robot e alle macchine autonome di sostituirsi l'uomo ma nei lavori più pericolosi meno graditi aprendo a professioni più sicure meno ripetitive quindi come vedete lo stesso tema approcciato da due punti di vista un po' diversi allo stesso modo la policy 3 e 4 sono un po' diciamo in contrapposizione fra loro la policy 3 ci dice che grazie all'intelligenza artificiale le informazioni che mi vengono proposte dai miei dispositivi sono idonee alle mie necessità i miei gusti mi consentono di non perdere tempo proprio perché preconfezionate per me dall'intelligenza artificiale mentre quella un po' opposta appunto riferisce che l'intelligenza artificiale filtra invece le informazioni che mi aggiungono e non mi consente una visione a 360 gradi dei fatti e delle opinioni in maniera molto analoga alla policy 5 e 6 che invece vertono sul tema della green quindi mentre la policy 5 ci dice che green e digital non vanno d'accordo per la grande consumo energetico richiesto per l'intelligenza artificiale invece la policy 6 ci dice che l'intelligenza artificiale supporta la sfida della sostenibilità proprio perché ci aiuta a fare delle scelte più efficienti ottimizzate queste policy come vedete ecco sono sei potrebbero essere anche semplicemente due o quattro in questo caso sono state proposte tutte e sei proprio per consentire agli studenti di riflettere su questi tre macroambiti che ruotano attorno a questo tema in generale docente può scegliere appunto delle policy che riflettono un po' d'obiettivo che vuole su cui vuole che gli studenti riflettano su qualunque altro argomento dopo che i docenti hanno preparato le policy a ecco volevo anche aggiungere che per esempio mentre le classi del primo biennio sono state vengono proposte tutte e sei queste policy per esempio ad una classe quarta che ha pure svolto questa unità di apprendimento era focalizzata e stava lavorando in quel periodo sulla sulla sostenibilità ecco le sono state proposte ad esempio solamente la cinque la sei quindi anche qui naturalmente con flessibilità il docente poi stabilisce cosa cosa intende fare e una volta che i docenti hanno preparato i materiali ecco che come si diceva abbiamo abbiamo coinvolto una classe di studenti grandi in quel caso una quinta perché fossero loro a preparare gli altri materiali del gioco gli altri materiali del gioco sono fatti problemi o storie che potessero supportare una o l'altra delle varie policy proposte già questa fase che è stata svolta come ripeto potrebbe essere svolta dal docente naturalmente nel nostro caso appunto è stata svolta da una classe eh che hanno potuto usufruire anche di una guida come vediamo qua eh quindi ehm gli studenti hanno abbiamo dato un un decalogo eh di fact checking in modo che nel momento in cui eh stavano così cercando questi materiali e usufruissero di questo decalogo un decalogo anche molto semplice poi magari lo scorriamo velocemente assieme ehm sappiamo che un vero e proprio fact checking il fatto di evitare le cosiddette bufale ecco eh richiede anche un approccio anche più approfondito da parte dei più esperti però già il fatto di dotare gli studenti di un decalogo eh che consenta loro di eh fare una scrematura insomma già eh importante eh dei materiali che riguardano una certa idea una certa eh così ehm modo di pensare che ruota attorno a un certo tema ecco può aiutare e come vedete queste regole per esempio la prima la prima eh per prima cosa è necessario analizzare il testo verificare la coerenza interna della notizia controllare la sintassi grammaticale ehm la presenza di frasi che mirano a enfatizzare tipo è una vergogna incredibile dobbiamo ribellarci già potrebbe insospettire come anche le frasi che spesso si usano per eh pare diciamo così girare queste informazioni per farle condividere quindi il mondo deve sapere condividete fate girare urgente verrà censurato presto ecco tutte frasi che spesso si trovano quando il desiderio è soprattutto quello di alimentare eh quest'idea ehm più che di ehm sostanziarle sostanziarla ehm il cinque verificare la struttura della notizia perché molto spesso ci sono delle strutture simili nelle bufale verificare anche una volta che si ha un titolo verificarlo sul web magari con l'aggiunta di keyword aggiuntive eh verificare i dati riportati nella notizia confrontare con altre fonti altri siti web verificare nello specifico l'autore la fonte ove riportata già se non è riportata può essere un po' più dubbioso eh e poi queste ultime due regole eh che vogliono anche sensibilizzare gli studenti quindi eh è necessario il buon senso ecco questo è importante sempre dirlo agli studenti eh bisogna avere un atteggiamento critico porsi delle domande e chiedersi se poi è veramente vero o meno ciò che vado a leggere ecco la disinformazione può portare il compimento di azioni sbagliate o pericolose anche questo è qualcosa che deve essere reso chiaro ai nostri studenti. Eh quindi eh tornando alla nostra la nostra unità di apprendimento mh la preparazione dei materiali eh quindi mh viene può essere arricchita da un ulteriore chiamiamola un ulteriore sotto unità didattica magari appunto affidata ad altri studenti oppure mh tenuta eh diciamo in mano dal docente dove sia più opportuno. Naturalmente questa preparazione di materiali comunque fa raggiungere delle competenze agli studenti ehm competenze di information literacy di fact checking e di critical thinking perché eh dover selezionare dei materiali ce ne sono sappiamo benissimo tantissimi sulla rete magari seguendo delle regole ecco già aiuta agli studenti ad acquisire questo tipo di competenza. ehm arriviamo alla fase di gaming vera e propria naturalmente se ci sono domande interrompetemi in qualsiasi momento e la fase di gaming vera e propria si noi l'abbiamo realizzata fidandoci a questa piattaforma eh questa piattaforma played inside dopo ne diamo un'occhiata assieme e e mette a disposizione proprio dei set di carte su vari temi vari argomenti ehm è un gioco che consente di acquisire un'opinione agli studenti un'opinione basata sui fatti e anche sulla discussione di gruppo. Ehm in qualche modo viene anche eh sottolineato e così eh sopportato il fatto che ciò avvenga con rispetto accogliendo le prospettive diverse che naturalmente ci possono essere e poi possibilmente arrivando anche a un consenso partendo magari da idee non proprio allineate inizialmente. Ecco questa piattaforma è supportata da Excite che è la rete europea di musei e centri scientifici ed è stata essa stessa sia la piattaforma che il gioco sviluppato grazie a progetti europei. Allora qui eh magari se entriamo un attimino così eh vi rendete già insomma avete cominciate a avere le idee un po' più chiare. Ecco qui ehm la piattaforma appunto presenta questo gioco di carte molto semplice ehm basato come dicevamo sul rispetto e il fact base e discussione di gruppo. Ehm qui ci sono va bene delle testimonianze e ehm è possibile selezionare il il gioco è sempre quello naturalmente le regole non cambiano però è possibile eh trovare già dei set di carte preconfezionati. Eh questi si possono trovare per esempio all'interno del limite di macro categorie oppure anche col bottone qui di ricerca con cui poi si può fare un filtro e per esempio anche selezionare sull'italiano ad esempio eh quindi già eh io posso cercare anche quelle carte già pronte eh in italiano vedete che ce ne sono qui ce ne sono in spagnolo comunque vedete che ce ne sono parecchie. Ehm come funziona questo gioco? Ehm il gioco è fondamentalmente si realizza in tre fasi eh quindi abbiamo eh preparato ehm abbiamo visto prima delle carte eh adesso ve lo dico sono delle carte questi fatti storie e problemi. Ehm queste carte vengono messe a disposizione di quindi noi abbiamo un set di carte per cui gli studenti ehm possono eh selezionarle quindi c'è una prima fase individuale in cui gli studenti prendono in esame questi fatti opinioni però fattuali problemi e storie che riguardano il tema in oggetto e in una prima fase mh si formano una prima opinione e raccolgono ehm queste carte che in qualche modo sostengono l'opinione che loro si stanno facendo. L'opinione deve essere una delle policy proposte inizialmente. Una volta che eh gli studenti si lascia di solito una mezz'ora si fanno una propria opinione personale poi eh c'è una seconda fase di discussione quindi eh i studenti in gruppi mh magari nel nostro caso ne abbiamo fatto gruppi di quattro raramente di cinque ehm ognuno ha la sua il suo tabellone dove ha raccolto le proprie carte con fatti problemi e storie di solito due fatti due problemi e una storia per suffragare una delle policy la policy che ha scelto. In questo momento poi ognuno presenta la policy che ha scelto, presenta il perché la scelta sulla base di cosa ehm ha deciso eh di aderire a questa idea, a questa opinione e eh mano a mano che ciascuno presenta ehm i vari individui consolidano la propria opinione personale, potrebbero ulteriormente convincersi di quella che si sono diciamo fatti nella fase uno oppure potrebbero invece decidere di cambiarla e anche questa è di solito una fase che dura circa mezz'ora. Poi c'è l'ultima fase, la fase tre, in cui eh all'interno del gruppo si cerca un consenso. Ecco questa non è una fase semplice perché poi durante anche la fase due possono essere diciamo state consolidate da parte dei singoli un'idea diversa eh però ecco in quest'ultima fase eh c'è mh la così la possibilità e il gioco eh porterebbe appunto a riuscire in tutti i modi a trovare un consenso condividendo le opinioni che ci si è fatti. Ecco eh è possibile eh una volta che si sceglie un set di carte eh vedete qui noi le carte che abbiamo costruito le abbiamo caricate nella nella piattaforma perché appunto questo non l'ho detto prima si possono usare tutti i set di carte che sono già disponibili in piattaforma però eh si può anche eh registrandosi in maniera molto semplice creare un proprio set di carte con le proprie policy e i propri fatti, i problemi e le storie. Eh qui vedete che appunto ci sono le istruzioni molto più in dettaglio eh rispetto a come ve le ho rassunte io potete prenderne visione naturalmente nel nel sito. E una volta appunto che gli studenti eh ecco vedete qui c'è un'immagine eh le carte possono essere stampate queste appunto erano le varie carte prodotte dalla nostra classe quinta eh gli studenti del biennio le hanno esaminate ehm e è possibile sia stamparle come abbiamo fatto noi oppure anche farle usare ai ragazzi ehm in digitale se hanno a disposizione un computer o un tablet un dispositivo di qualche tipo. Volevo farvi vedere visto che prima mh la piattaforma abbiamo visto che è sostanzialmente in inglese però nel momento in cui ehm selezionate un set di carte eh perché decidete di far ragionare i vostri studenti su quel tema ehm per esempio questo è il set di carte che abbiamo caricato noi nella piattaforma eh se questo set è in italiano eh tutto poi viene presentato in italiano le varie policy che abbiamo visto prima quindi le posizioni che poi i ragazzi devono assumere nell'arco della del gioco eh qui potete vedere le varie storie che sono state caricate appunto da noi eh una riguarda una delle policy ehm e possono essere esaminate quindi anche qui e poi ci sono tutte le carte quindi le carte ehm come vedete le info cards sono le carte dei fatti e quello che è importante è appunto che in quanto fatti eh siano il più possibile sostanziati quindi si cerca eh che ci sia nel caso di come nella prima carta eh una previsione che viene illustrata mh da parte di chi ehm con dei numeri con degli dati concreti che vengono presentati quindi il fatto che deve essere selezionato o presentato agli studenti come tale deve appunto avere queste caratteristiche di essere circostanziato, precisato e quindi gli studenti si avvicinano a queste carte e in qualche modo anche capiscono meglio cos'è un vero fatto, qualcosa che appunto deve essere ben eh ben così circostanziato e precisato anche anche nei numeri. Ecco qui noi ne abbiamo insomma caricate parecchie e quindi ci sono molte di queste carte e è possibile insomma utilizzarle tutte o in parte. Le carte dei problemi anche devono essere comunque delle carte ben circostanziate e quindi portare però eh dei dubbi, portare delle eh insomma delle criticità eh rispetto al fatto che più assettico il problema eh eh porta una criticità e in qualche modo in quanto tale deve un po' anche eh servire allo studente proprio per riflettere maggiormente stimolare quella fase di approccio critico ehm al problema, alla policy che ha davanti. Ok, come vi dicevo appunto è possibile stampare le carte, questo secondo noi è anche il modo migliore, le carte vengono messe in un tavolo all'interno eh dell'aula, insomma si uniscono magari un po' di banchi eh i ragazzi si avvicinano e anche nella prima fase in cui è una fase individuale, come dicevamo, in cui gli studenti prendono in esame e cominciano a entrare nel tema in maniera più approfonditamente eh già lì insomma si vede chi è incuriosito da una carta, chi è incuriosito da un'altra e insomma è già una fase per quanto individuale se svolta con delle carte proprio fisicamente prodotte crea già ma comunque una qualche interazione nel gruppo dei pari. Ehm vedete come ehm qui per esempio il gruppo poi ha lavorato eh in questo caso i ragazzi avevano in disposizione un dispositivo digitale quindi hanno lavorato in digitale anche e hanno eh scelto questo gruppo ha scelto una certa policy e l'ha messa qui in mezzo e poi ha scelto eh hanno scelto tutti assieme sulla base di quali fatti, di quali problemi e di quale storia eh si avevano raggiunto il consenso all'interno del gruppo su eh il fatto che l'intelligenza artificiale nel caso specifico eh consentirà robot e macchine autonome di sostituire l'uomo nei lavori più pericolosi e meno graditi. Ecco poi altri hanno scelto naturalmente altre policy. Quindi eh qui ecco piaceva farvi vedere anche questo. È possibile dalla piattaforma scaricare anche il gioco e nel momento in cui il gioco è con diciamo la la lingua scelta è l'italiano ehm quando si scarica il pdf si scarica eh ringrandisco un po' si scarica un documento che è tutto scritto in italiano. Quindi eh anche come vedete gli obiettivi, la durata del gioco eh le istruzioni eh i materiali che servono eh trovate tutto in italiano ehm e poi insomma eh le varie fasi le carte eh anzi scusate prima il tabellone dove anche questo può essere stampato e ogni studente ha davanti questo tabellone eh qui ci sono le policy. Lo studente evidenzierà la policy che sceglie e raccoglierà proprio fisicamente oppure digitalmente ehm le carte che ha che ha selezionato. Ci sono vabbè anche qui uno schermo che fa vedere un po' come si sviluppa il gioco e poi tutte le carte eh per cui poi basta stampare questo pdf e si ha tutto a disposizione. Ehm ecco una volta che gli studenti hanno giocato e quindi eh come dicevamo prima hanno ehm poi raggiunto un'opinione di gruppo eh diciamo che il cuore un po' della dell'unità didattica è proprio ruota proprio attorno a questo gioco. Eh infatti eh vediamo come le competenze che che si raggiungono sono sono varie eh naturalmente il fact checking e il critical thinking ma anche l'argomentazione che però deve essere fact based quindi all'interno del gruppo sì magari eh si può portare la propria opinione però sempre basata su su quelle famose carte quindi sui fatti che i problemi le 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 evidenze quindi che sono state raccolte e naturalmente competenze relazionali di gruppo ma anche empatia che è sempre più importante come competenza perché eh sviluppare empatia all'interno del gruppo vuol dire comunque anche ehm riuscire a non creare diciamo così eh delle barriere all'interno del gruppo solo perché si hanno idee diverse eh comunicazione e consapevolezza ecco vengono da sé. Anche la consapevolezza è molto importante quindi io sto scegliendo una policy non perché l'ho sentita dire mi ha tirato magari è formulata anche in un modo particolarmente accattivante ma perché ho mh contezza eh di questa idea perché ho trovato delle evidenze che la possano sostenere. Ecco eh dopo la fase di gioco noi abbiamo appunto aggiunto anche ulteriori fasi per esempio questa è quella della comunicazione eh ogni gruppo ha poi presentato la politica che ha scelto eh al resto della classe. Ecco diciamo che questa fase che noi abbiamo aggiunto per completare mh meglio quello che era stato un lavoro poi nei gruppi e fare una condivisione anche a livello di classe eh ci ha dato anche delle sorprese. Vorrei farvi vedere questo video e dura veramente un minuto e poi vi spiego perché lo trovo interessante. È stato realizzato dall'alto prima. l'intelligenza artificiale, macchine e robot sostituiranno l'uomo nei lavori e nelle relazioni. Ecco alcuni esempi. Adesso sono i robot che lavorano per noi ma immaginatevi se gli umani inizieranno a lavorare per i robot. Quest'ultimi inizieranno a darci degli ordini. Infatti ci sono diversi studi che lo affermano perché ormai 1,8 milioni sono i robot operativi in tutto il mondo sia nelle aziende che nelle nostre abitazioni. Un altro esempio di un possibile futuro può essere che una persona umana si innamori di un robot. Un altro esempio di come l'intelligenza artificiale sostituirà le relazioni tra gli umani può essere un nonno che viene sostituito da un robot nel giocare con il suo ipotet. Una ragazza non sa di chattare con un robot programmato. Instaurare una relazione con un freddo software è ben diverso dalla comunicazione reale dove ci sono empatia, emozioni e creatività. Immaginate in un futuro vicino. In una fabbrica un operaio sta lavorando. quando un robot lo sostituisce gruscamente. Non gli importa della vita personale degli umani. Ciò succede per tutti gli operai della fabbrica che pian piano verranno sostituiti così come in tutto il mondo. L'intelligenza artificiale colonizza la Terra. Ecco, vedete come questo video, per quanto breve e molto semplice, prima dicevo è stato fatto da ragazzi di prima, fa capire quanto poi vissuto sia rimasto dentro i ragazzi di quella discussione, di quel confronto, di quei materiali che hanno trovato. e mette in evidenza, come in questo caso, è vero il tema è molto controverso, non necessariamente tutti i temi lo sono così tanto, però se restano delle preoccupazioni, dei timori, anche dei momenti non proprio di tranquillità rispetto a quel tema, questa fase della comunicazione li può far emergere e quindi diventa veramente anche più semplice poi discuterne e portare gli studenti, non dico a cambiare idea, ma almeno a vederla in prospettiva rispetto a quello che poi loro possono fare per evitare quel futuro, se non gli piace l'idea che si realizzi. Oltre ai video, i ragazzi hanno fatto anche dei volantini, quindi ho selezionato i due, per esempio il primo, in cui gli studenti volevano sostenere che l'intelligenza artificiale è a favore del green, e loro hanno scritto subito, la I non è un'arma, ma uno strumento dalle infinite risorse. Allora, perché previsione di catastrofi, analisi complesse sull'inquinamento, aiuto nello sviluppo di materiali più efficienti, quindi gli studenti in qualche modo però l'hanno dichiarato subito, hanno detto attenti, forse voi lo temete, però non è un'arma e diciamo noi perché. Nel terzo volantino è ancora più sottile questa comunicazione, perché il volantino, come vedete, inizia con una frase, insomma, diciamo preoccupante, sparizione dei lavori, con tanto di punto esclamativo. Quindi diciamo che gli studenti hanno anche imparato ad usare loro stessi certe strategie, quindi la frase ad effetto, che naturalmente preoccupa e per questo attira chiunque la legga, ma poi subito dopo, ma non in senso negativo, lavori noiosi e pericolosi, vigili del fuoco, artificiere e camionista, verranno sostituiti da artificial intelligence. Quindi in alcuni modi vediamo come anche gli studenti ci ha sorpreso questa, per esempio, questo modo di usare si stessi l'informazione, un po' come l'avevano trovata forse, ecco, inizialmente in internet o nei giornali, nel sentito dire così quotidiano. Ecco, naturalmente anche nella fase di comunicazione sono molte le competenze che vengono acquisite, l'informazione viene valutata, si deve scegliere quale portare, quale non portare, il video è comunque breve, il volantino è ancora più sintetico, quindi scegliere l'informazione e poi naturalmente tutte le competenze relazionali, comunicative, anche digitali, magari di più per chi fa il video, un po' meno per chi fa il volantino, ma comunque insomma competenze sempre trasversali, molto importanti. Ecco, poi siamo arrivati noi alla fine dell'unità didattica, abbiamo proposto un debate, quindi tenevamo che gli studenti potessero confrontarsi poi a livello anche più argomentativo, un po' fra di loro, argomentare e così dibattere appunto. Come abbiamo organizzato questa fase di debate? Abbiamo presentato a tutta la classe un questionario, dove c'erano le nostre sei policy, quelle che abbiamo visto inizialmente e che gli studenti, vi ricordo, prima individualmente, poi in gruppo avevano accolto l'una piuttosto che l'altra. Abbiamo chiesto di votare ciascuna di esse, dopo che appunto c'era stato il gioco, c'erano state anche le presentazioni tra gruppi nella classe, hanno votato, hanno votato la policy 1, 2, eccetera. Vedete il blu è l'appoggio pieno a quella policy, il rosso accettabile, il giallo non accettabile e il verde è l'astensione. Anche qui emergono delle informazioni, diciamo, interessanti per quanto riguarda come è stato poi acquisito il tema in quella particolare sfaccettatura di quella particolare policy. Però poi in realtà noi l'abbiamo usato proprio per organizzare il debate, perché l'abbiamo organizzato in due modi. Alcune classi sono state divise in due gruppi e hanno dibattuto un gruppo contro l'altro. In quel caso noi abbiamo analizzato i risultati del questionario per trovare due policy magari un po' contrapposte, un po' come nelle regole del debate, di solito sono due temi così un po' contrapposti fra loro, su cui bisogna appunto dibattere. E quindi qui per esempio vediamo come la policy 3 e la policy 4 sono, che sono appunto due policy, quelle sull'informazione. Una che mi dice che l'informazione grazie all'intelligenza artificiale mi aiuta perché mi filtra già le cose che non mi interessano. E l'altra che dice che a causa dell'intelligenza artificiale e del fatto che filtra le mie informazioni io ho una visione più limitata, ecco vedete che sono state entrambe molto votate. Sono state entrambe molto votate e addirittura c'è qui una forte diciamo componente anche di chi la ritiene non del tutto accettabile. E in queste due policy non c'è nemmeno nessuno che si è astenuto. Quindi rispetto al discorso dell'informazione, gli studenti avevano tutti un'idea chiara e abbastanza insomma, dico proprio a metà sull'una e sull'altra, però erano entrambe ben così accolte all'interno della classe. Quindi in questo caso, nel caso di questa classe, è stato deciso che il debate fatto appunto metà classe sulla policy 3 e l'altra metà sulla policy 4. Abbiamo anche organizzato dei debate invece fra classi. In questo caso quello che siamo andati a cercare è la policy che fosse più sentita all'interno della classe. In questo caso qui è la policy 2, che ha un appoggio pieno molto alto e ha comunque un certo appoggio. Anche qui non ci sono astensioni. è interessante vedere come per esempio per la policy 5, che è quella del green e digital che non sono in sintonia, c'è tanta astensione. Quindi su questo tema c'era ancora, diciamo, c'erano dei dubbi e quindi insomma, volendo potrebbe essere organizzata un'attività che dia qualche supplemento di indagine riguardo a questa policy. ecco, qui vedete un volantino, qui era stato fatto appunto una classe contro l'altra, abbiamo dato spazio in Aula Magna, abbiamo invitato altre classi del primo biennio che hanno fatto da giudici, sono stati loro a giudicare insomma quale delle due classi aveva sostenuto meglio la propria argomentazione e così facendo, ecco, anche loro hanno acquisito, direi, un metodo, è così un po' di riflesso, però hanno potuto sentire, no, come le argomentazioni erano basate su questioni molto, molto precise. Sappiamo che le competenze del debate sono sostanzialmente queste, argomentazione, public speaking, anche qui torna l'empatia. devo dire che nel caso delle due classi che sono state votate da altri compagni ha giocato molto anche l'empatia oltre alla capacità di argomentare insomma in maniera precisa, ha giocato molto l'empatia poi con i pari per decretare il vincitore. Ecco, io ho finito di presentare unità didattica e vi ho messo qui a disposizione due QR code per cui magari è più semplice così se volete accedere e memorizzarvi comunque si trova subito basta scrivere play decide la piattaforma dove ci sono dove c'è il gioco a carte questa invece è per accedere alla rete Brain alla piattaforma della rete Brain dove potete vedere tutti i materiali più nel dettaglio la descrizione delle unità didattiche compresa questa che vi ho illustrato oggi e non mi resta che ringraziarvi questo è il mio indirizzo email e mi trovate anche su LinkedIn ecco qua grazie sono molto interessanti grazie dunque io posso se posso rompere il ghiaccio con le domande ne avrei una che fa riferimento un pochettino anche ai contenuti del corso online Micmac per insegnanti nei quali c'è una sezione proprio che riguarda il modo in cui gli studenti possono discutere fra loro esprimendo le loro posizioni che fa parte della diciamo rientra nel modulo dell'empatia e della comunicazione interpersonale per cui la domanda che mi era venuta in mente è questa sono capitati dei casi in cui ci fosse magari nel corso della discussione qualche studente che cercava di avere il sopravvento quindi che cercava magari di imporre la sua opinione sugli altri non so con modalità magari aggressive o comunque diciamo proprio impositive e soprattutto se ci sono stati casi del genere in che modo sono stati gestiti dai docenti? Ma allora diciamo che va a succedere naturalmente nel gruppo che ci sia lo studente che non so crede che magari il successo sia portare il gruppo alla propria posizione piuttosto che a trovare un consenso una cosa questa non ve l'ho detta prima nel gioco vengono messe a disposizione oltre ai carti alle carte che abbiamo visto dei fatti delle storie dei problemi anche delle yellow card quindi dei cartellini gialli e se qualcuno ritiene in quel momento che le regole non siano rispettate naturalmente devono essere così stabilite queste regole è importante quindi farlo presente prima gli studenti insomma come devono approcciarsi però se qualcuno nel gruppo ritiene che le regole che sono state stabilite per un confronto aperto di ascolto e insomma anche disponibile verso gli altri allora posso levare la yellow card e in quel caso il docente che comunque è presente magari può avvicinarsi al tavolo e cercare di capire qual è la questione che si sta risolvendo e come intervenire per supportare il gruppo ecco e a proposito di questo ci sono anche altre carte prima non vi ho fatte vedere per semplificare dove per esempio ci sono delle carte di supporto quindi ci sono delle carte dove ci sono delle domande abbastanza generiche che possono andare bene un po' in tutte le come dire un po' in tutte le le situazioni che sono quelle carte in cui se vediamo che il gruppo langue non riesce a partire la discussione non c'è quella insomma capacità di intraprendere la discussione anche questo è una questione che può verificarsi spesso soprattutto con gli studenti del primo biennio allora si tirano fuori queste carte anzi le si fanno proprio scegliere a loro da un mazzo particolare dove non so c'è per esempio la carta che dice chiedi allo studente che è alla tua sinistra di selezionare uno qualunque dei fatti che vede e provate a leggerlo assieme oppure c'è la carta che dice provate a prendere un fatto nuovo e discuterlo assieme insomma ci sono anche carte di supporto così all'attività di gruppo che poi di solito è proprio quella che impegna di più gli studenti che richiede loro un maggiore impegno sforzo e insomma partecipazione anche emotiva e insomma sappiamo che la discussione di gruppo insomma ha caratteristiche anche non semplici gli studenti come reagiscono a questo tipo di iniziative che vi danno dei riscontri esprimono magari difficoltà particolari nel gestire perché immagino che non siano situazioni per uno studente molto semplici quelle di dover interagire con altri in un dibattito cercando di non prevalere quindi di avere questo approccio che è un approccio anche direi più adulto quello dell'ascolto nei confronti delle opinioni degli altri in modo non come dire in modo non giudicante e ascolto attivo come reagiscono come hanno reagito gli studenti a questo diciamo a questa modalità ecco ci sono c'è stata accettazione oppure hanno avuto difficoltà hanno espresso anche difficoltà magari allora sicuramente nell'attività di gruppo ci sono alcuni che fanno più difficoltà quello si sa che è così insomma certo quello che a parte i supporti che vi dicevo prima però devo dire che poi i ragazzi alla fine hanno tutti espresso apprezzamento cioè si sono per lo più sentiti di avere più contezza di quel problema di quella questione di quel tema e quindi hanno quello sicuramente evidenziato una soddisfazione insomma dal punto di vista del fatto che questa attività il gioco la discussione poi anche la comunicazione li ha sicuramente aiutati a comprendere meglio ecco e poi quando li abbiamo fatti rigiocare magari su un altro tema sempre con lo stesso gioco ma viene usato tanto dai nostri colleghi anche per parlare di fisica oppure non so temi legati un po' non so diciamo sugli aspetti della biologia quello un pochino più spinta ecco quindi temi controversi come il fatto di modificare il DNA queste cose qui ce ne sono varie di giochi anche su questo tema ecco poi li abbiamo visti più più proattivi ecco a farsi un'idea non immediata non istintiva non spontanea ma proprio andando anche a cercare le informazioni con questo spirito più di attenzione alla veridicità alla così alla contezza dell'informazione stessa ecco quindi quello devo dire che abbiamo notato un miglioramento in queste competenze degli studenti quello sì poi sulla discussione è vero anche questo fanno fatica alcuni più alcuni meno però appunto io ritengo che siano competenze non semplici neanche fra adulti ecco trovarsi a un tavolo con idee magari contrapposte dove raggiungere un consenso sappiamo che non è semplice ecco quindi nemmeno per loro naturalmente però insomma a volte succede che non riescono a raggiungerlo questo consenso è previsto anche questo non è che c'è si vince solo se si raggiunge l'importante è poi insomma capire con loro dove è stato il problema cosa li ha bloccati in questo e magari poi insomma si raccolgono comunque anche delle difficoltà magari relazionali all'interno della classe che poi aiutano in situazioni successive ecco quindi sì alla fine è stato sempre un riscontro positivo poi si divertono molto alla fine a fare il debate soprattutto quando nella classe si creano a volte delle spaccature abbastanza nette allora poi il fatto del poter di poter dibattere li coinvolge molto quello devo dire di sé è un bel coinvolgimento però molti dei nostri colleghi fanno anche semplicemente solo il gioco e con quello insomma fanno può essere un modo anche per approcciare un tema e poi magari trattarlo più approfonditamente da parte del docente con tutte le iniezioni con insomma poi magari si fa una lezione vera e propria su quel tema lì però l'introdurlo magari grazie a questo gioco attiva gli studenti la loro curiosità e li li rende più recettivi poi a quella che magari sarà una lezione più classica che verrà a seguire anche questo vediamo che è importante cioè attivare la loro curiosità e così renderli più interessati al tema che si andrà a trattare aiuta molto grazie non so se qualcuno dei colleghi ha qualche altra domanda dunque il microfono un attimo accendiamo il microfono perché se ci riesco potrebbe già essere acceso sì sì acceso Antonio non si sente sta parlando ma non si sente sta scrivendo nella chat box sì sì perché sembrerebbe acceso il microfono però non sentiamo volevo sapere se è stato sperimentato su materie scientifiche sì è stato sperimentato su materie scientifiche devo dire che abbiamo adottato questo gioco proprio perché ce l'ha proposto una collega di fisica della nostra scuola che lo usava per appunto far riflettere gli studenti su alcuni temi ecco e anche scientifici infatti nel sito ci sono tanti no vi vedavamo prima ambiti dove ci sono vari giochi di carte su quell'ambito lì e ce ne sono veramente tanti sugli ambiti scientifici biologia fisica oltre che quelli magari che si sembrerebbe si possano prestare meglio che sono magari ambiti così legati alla società all'informazione però ce ne sono molti anche scientifici abbiamo questa collega che lo usa moltissimo per la fisica sì quindi sì anche lei rilevava il fatto che accende più interesse poi su un certo tema che verrà trattato e anche ha molto diciamo presa sugli studenti proprio per quei temi visto che nella nostra scuola c'è l'indirizzo di biotecnologie sanitarie i docenti che devono trattare certi temi legati proprio ad aspetti anche più vicini no alla così agli aspetti etici lì magari li affrontano con questo gioco e mettono un gioco gli studenti stessi a dare una loro opinione una loro sì farsi un'idea su quelli che possono essere i vari aspetti legati a certe a certe tecnologie insomma della biologia per esempio quindi sì viene usato molto anche in ambiti scientifici adesso per esempio una delle ultime che ho visto che è stata caricata era proprio relativa a non so alcuni casi che si stanno così ripetendo nelle scuole di episodi di violenza eccetera mi è sembrata molto carina perché era praticamente le storie che venivano proposte erano ognuna era il punto di vista di una persona diversa coinvolta nella magari in una situazione di così di violenza o comunque di di conflitto all'interno della scuola e quindi c'era il punto di vista e tutti i punti di vista erano espressi anche in maniera molto personale quindi tutti convincenti da un certo punto di vista punto di vista dello studente magari che ha fatto il bullo piuttosto dal punto di vista dello studente che è stato preso di mira dal punto di vista dell'insegnante del genitore dell'uno del genitore dell'altro e mi è sembrato anche quella un modo così per poter parlarne con i ragazzi però dando la voce a loro come come qualità ecco per risolvere questa così magari discutere di qualcosa di spiacevole che è avvenuto e farlo così in maniera un po' laterale ecco senza prenderlo troppo di petto e in modo così alternativo per far riflettere gli studenti su tutti i punti di vista che sono coinvolti in questo tipo magari di situazione un po' a limite un po' delicata ecco quindi ce ne sono veramente di tantissime tipologie anche in italiano ce ne sono già parecchie devo dire che ce ne sono tante ecco quindi se andate sul sito ne trovate tante e comunque è facilissimo inserire le proprie basta iscriversi in maniera molto semplice poi c'è un tool guidato per cui si possono inserire le proprie polisi le proprie carte veramente in maniera molto semplice e poi il proprio gioco parirà lì insieme a tutti gli altri ecco viene in qualche modo prima credo validato insomma e poi viene viene reso disponibile e anche quella è una cosa bella insomma questa sorta no di contributi dal basso nell'andare a completare la piattaforma è molto semplice da usare anche sotto questo punto di vista oltre che per usare tutti i materiali già pronti che fungono anche da così da spunto da no per creare poi i propri insomma molto dipende dall'obiettivo che ci si vuole porre con quella con quel gioco se appunto si punta di più alla discussione così su temi su quali non è che c'è un giusto o un sbagliato oppure se invece si vuole far arrivare i ragazzi a una posizione che è quella più corretta allora magari si scelgono anche le carte insomma ci vuole un po' di lavoro magari a selezionare i materiali però ho visto che anche proporlo a una classe grande quarta o quinta è stato molto interessante i ragazzi si sono impegnati molto poi hanno inserito loro stessi nella piattaforma i materiali insomma quindi anche quello è stato un'esperienza molto positiva sicuramente bene grazie davvero per questa presentazione che ho trovato estremamente interessante grazie ai presenti e vi ricordo che la registrazione se siete interessati a rivederla sarà pubblicata nel nostro canale youtube grazie ancora a tutti grazie buonasera arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti